Portare la maggiore età da 18 a 17 anni o addirittura 16 anni. Un'agenzia ANSA riporta questa ipotesi come una questione sul tavolo ma non la questione più urgente, come dichiarato dal capogruppo del PDL alla Camera, Fabrizio Cicchitto. Ipotesi che se messa in atto attraverso una legge, applicabile retroattivamente, potrebbe salvare il premier Silvio Berlusconi dall'accusa di prostituzione minorile nel caso Rubi, facendola diventare maggiorenne. L'idea porta la firma di Gaetano Pecorella, uno degli avvocati deputati del PDL. E sembrava quasi una bufala, se non fosse che a rilanciarla è sceso in campo il capo dei deputati del Popolo della Libertà.